Urra, urra, urra! Urra, urra, urra! Urra! Ci è stato consegnato questo grosso tema, che è un tema molto importante e difficile, ma che comunque è qualcosa che ci riguarda quotidianamente, che è il tema della fiducia. L'obiettivo è quello di cercare di tradurre la fiducia attraverso dei processi artistici, delle opere che poi si concretizzano con delle installazioni fisse che dureranno durante il tempo della festa di Sant'Alessandro. Questo avrà piede per tutta la città, si daranno vita a dei poster, ad una serie di poster con tema fiducia, utilizzando diversi espedienti artistici e verranno affissi per tutta la città. e cercheremo di coinvolgere gli abitanti, cercando di farli fermare di fronte a questi poster per suscitare in loro delle domande, delle suggestioni. All'interno del progetto di Art Together Now, qui a Longolo, il lavoro che stiamo facendo con i ragazzi è quello di provare a far sperimentare la progettazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione da un lato sociale, comunitaria, collettiva, perché finirà, insomma, si vedrà in giro per la città di Bergamo. L'idea è quella di tradurre attraverso dei poster, e quindi delle idee creative realizzate dai ragazzi, rielaborate e ripensate attraverso appunto un pensiero attorno al tema della fiducia, quindi che cos'è la fiducia e come si traduce la fiducia dentro le nostre file. Nei prossimi giorni vedremo un po' svilupparsi meglio il progetto, che vedrete poi presto in giro per la città.